Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza stampa di presentazione del film Gianni Versace e l'imperatore dei sogni di Mimmo Calopresti che abbiamo il piacere di accogliere qui insieme a Vera Dragone, Mariella Lisacchi e Amedeo Letizia e benvenuti. Il film è stato selezionato alla 41esima edizione del festival nella sezione fuori concorso ritratti e paesaggi ed è qui una prima mondiale, i produttori Amedeo Letizia e Mariella Lisacchi per la Quality Film, c'è una coproduzione con la società di produzione slovena Strara Gara, giusto spero di pronunciarlo bene, poi c'è il contributo del Ministero della Cultura della Regione Calabria, della Fondazione Calabria Film Commission, un film scritto da Mimmo Calopresti con la sceneggiatrice Monica Zapelli che però non è qui, giusto? No. Allora Mimmo Calopresti, faccio un paio di domande e poi passo la parola al pubblico, volevo sapere, lei torna spesso in Calabria con diversi film, però volevo sapere in questo caso quali sono gli aspetti della Calabria di Gianni Versace che ha sentito essere o delle similitudini o qualcosa che avete in comune o che cos'è che l'ha acchiappata come attenzione? Sono un calabrese torinese, ho questa doppia vita, questo doppio mondo in cui vivo, adesso sto a Roma per far cinema, però ogni tanto torno in Calabria per fare dei film, poi adesso spero di tornare anche a Torino a fare dei film. Gianni Versace ovviamente è un personaggio enorme per la Calabria, ma per l'Italia intera, ancora adesso è un'icona vera, forte, dopo la sua morte è rimasto nell'immaginario di tutto il mondo, infatti questo titolo L'imperatore dei sogni è questa idea di uno che è riuscito a sognare e a realizzare i propri sogni, che è la cosa più difficile del mondo. E quindi per me andare a trovarlo, a cercarlo, ho voluto dire andare a cercare un Gianni Versace che viveva per strada nelle vie di Reggio, come io vivevo per strada nelle vie di Polistra, che è vicino a Reggio, andare a cercare delle origini sue, di questa idea di bellezza che c'aveva, per cui la Magna Grecia, i greci, che poi ha messo in tutta la sua moda, questa non voglia di studiare, questa voglia di arrivare lontano con il proprio pensiero, con le proprie sensibilità. Ecco, quindi un Gianni Versace da cui sensibilità mi ha molto colpito, che è una sensibilità artistica, quindi quando lui poi a 50 anni se ne va a Miami, quasi vuole abbandonare la moda per fare solo arte, per occuparsi di comprare bei quadri, di comprare bei mobili, di godere diciamo di una vita che era vicina a quella del lungomare di Reggio Calabria. Mi ha molto colpito questo inizio e questa fine di quest'uomo, davanti a questo mare che c'è dentro il film continuo, eccetera, e poi questo bisogno di tornare lì dopo che è stato male. Quindi un Gianni Versace che è diventato un'icona, un'icona, come dire, sembra che è sempre qui tra di noi. E quindi è da raccontare, forse da raccontare anche di più di quello che ho raccontato io. Poi mi sono sempre anche chiesta come ci si arricchisce nel momento in cui si vive davanti allo stretto di Messina, perché è uno sguardo che averlo lì tutti i giorni, secondo me, riempie di un sacco di possibilità in realtà. Assolutamente, assolutamente. Quest'idea di vivere davanti allo stretto, diciamo, dove appunto è passata la grande storia, sono passati tutti, è una forma come di arricchimento che va appunto al di là poi della conoscenza scolastica. Allora magari lui si leggeva le cose per i fatti suoi a casa, non aveva neanche perdere tempo ad andare a scuola, voleva andare a vedere i siti, i posti dei greci, eccetera. Ma in effetti la luce che c'è davanti allo stretto, l'ho sempre detto, è la luce più bella del mondo, quindi è un posto pazzesco. Volevo chiedere ai produttori, mi sembra che la vostra produzione ha sempre uno sguardo sull'Italia, ma in particolare anche al sud. Allora c'è una particolare narrazione che arriva da lì? Allora, noi negli anni abbiamo prodotto tantissimi film, soprattutto storici, e è capitato anche che abbiamo girato in Sicilia un film importante tratto dal libro di Sciascia. La cosa che questa volta ci ha veramente colpito è stata, a parte la location che era meravigliosa, e questo racconto partendo dalla Magna Grecia, che mi sembrava importante dare come input al discorso di Gianni Versace come suo retaggio storico. Ma quello che ci ha colpito veramente è stato l'incontro con delle persone eccezionali, che appunto parlo della Film Commission calabrese, che addirittura il primo giorno in cui noi abbiamo iniziato a fare le riprese, no, stavamo facendo ancora i sopralluoghi, sono venuti con noi a fare i sopralluoghi con noi, quindi abbiamo avuto questo accompagnamento alla scoperta della Calabria insieme a loro, e questo mi sembra importantissimo perché questa è la funzione vera che devono avere le Film Commission. E quindi speriamo ancora di continuare a lavorare al sud, perché c'è un territorio enorme da scoprire e una cultura enorme da scoprire. Sì, poi se ci sono delle Film Commission che possono sostenere... No, che veramente aiutano, cioè ti fanno scoprire, insieme a loro scopri un mondo che tu non conoscevi, e questo è importantissimo. Il Film ha avuto intanto una lunga gestazione perché sono due anni che ci stiamo lavorando con Mimmo, una realizzazione proprio grazie anche al Ministero che ci ha contribuito al finanziamento del Film, e siamo felici di raccontare la cosa strana che Mimmo è riuscito a raccontare un personaggio così famoso, così conosciuto, in modo diverso. È come se fosse un film raccontato una storia vera, emozionante, di come Gianni Versace, come la sua famiglia, nel tempo è riuscita a scalare il mondo della moda, è riuscita ad innovare il mondo della moda. Quindi per noi è un prodotto importante perché finalmente si racconta un Gianni Versace diverso da quello che è stato raccontato fino ad adesso. Quindi grazie a Mimmo, grazie comunque a Steve della Casa, al Torino Film Festival per averci ospitati e siamo felici di essere qua, sperando che stasera sia un successo anche di pubblico. Questo successo, vera, è anche legato a una mamma che ha saputo vedere delle qualità e valorizzarle. Si è riconosciuta in questo ruolo? Beh sì, comunque Franca è sicuramente un personaggio atipico per quel contesto, per quegli anni, ed è una donna che riesce in qualche modo a fare con il figlio quello che magari avrebbe voluto fare lei, cioè instradarlo su una carriera ancora più di successo rispetto alla sua, che comunque era una sarta molto conosciuta a Reggio Calabria, e a farlo sognare, a farlo viaggiare. Lei è stata proprio un'imprenditrice antelittera, diciamo una grande precorritrice dei suoi tempi, se pensiamo che comunque, pur non avendo avuto la possibilità di studiare, è riuscita a creare un suo piccolo impero, una sua sartoria con anche tante persone, tra cui tantissime donne che lavoravano insieme a lei, e a costruire diciamo il suo marchio. E questa sua artigianalità unita al suo estro, al suo talento, è una cosa che poi ha imparato Gianni proprio da lei, che ha fatto, praticamente è andato a bottega dalla mamma, quindi ha rubato un po' i trucchi del mestiere proprio da lei. C'è anche l'aspetto che comunque è stata brava a vedere che suo figlio aveva delle cose... Sì, lei ha intuito proprio la genialità, il talento di questo ragazzo, e anche la sensibilità, la diversità, ha capito che era diverso rispetto a tutti gli altri. Ci sono domande? Buongiorno, sono Gaia Simionati, complimenti per il film. La cosa che mi è piaciuta molto è l'uso musicale, cioè velocissimo, apre un capitolo e estremamente sofisticato. Volevo sapere se è voluto, come l'avete lavorato, chi è il music editor, e poi siccome lui è un personaggio così interessante, adamantino e sfaccettato, se avete pensato a un sequel, perché insomma c'ha tante cose da raccontare. Sì, molto. Grazie. Infatti il film è un pochetto ristretto, se vuoi, perché sembra che apre tutta questa strada milanese, potrebbe diventare molto importante, perché lui poi ha conquistato Milano, e da Milano poi ha conquistato il mondo in maniera incredibile. Sulla musica, si è molto ispirati alla musica che lui usava durante le sfilate, per esempio Fabrizio D'Andrea era una sua fissa, e quindi abbiamo messo insieme della musica, delle sfilate, che ovviamente erano sempre state all'avanguardia, da parte di Gianni Versace, insieme a, come si chiama il nostro musicista, Pornaciari, che ha legato il mondo delle sfilate, dell'uso della musica che faceva Versace con il resto del racconto. Quindi Andrea Fornaciari è riuscito a chiudere poi questo discorso, però è molto importante veramente l'idea di cambiamento. Versace è sempre stato un rivoluzionario, questi facevano le sfilate, gli uomini con le cravattine, le cose eccetera, le donne a Firenze, le donne con il casimirino eccetera, lui è arrivato lui, ha spogliato tutti, li ha messi in pista, ha fatto entrare tutti delle grandi star, questa idea di trasformare attraverso la moda tutti nella possibilità di diventare delle star è stata la sua grande forza. E l'uso della musica è stato fondamentale, perché gli piaceva la musica italiana di un certo tipo, la musica classica, e la musica d'avanguardia, cioè aveva una capacità di vedere tutto quello che si muove intorno con una velocità pazzesca, e sulla musica ci ha lavorato molto, quindi sono contento che si è piaciuta. Anche sulla fotografia, è stato il primo che ha usato un fotografo importante e ha fotografato in modo diverso le modelle, anche questa è una sua innovazione. Ma la vostra scelta di farla durare così poco? Tutto questo è legato a un ritmo, che c'ha il film, che c'ha tutta la storia di Versace, che appunto era nato come un documentario, forse sotto l'ora, insomma poi si è evoluto, diciamo, mentre lo facevamo. Anche questa fiction è diventata più importante di quello che si era preparata, eccetera. Quindi questo mischio di fiction e documentario è molto importante dentro il film, e quindi la musica deve collegare a questi momenti, che sono veloci, no? Sì, anche il montaggio infatti segue i ritmi, è come se fosse una sfilata, le sfilate che lui ha inventato, infatti nel documentario, la Molassano in particolare, dice che lui ha rivoluzionato anche il mondo della moto, le sfilate in particolare, oltre alle fotografie, no? I fotografi erano Avedon, erano il meglio che c'era. Quindi anche il nostro montaggio segue un po' questa intuizione di Gianni, nel limite del possibile, chiaramente. Sì, c'è un ritmo di montaggio che richiama una sfilata, ma ci sono anche un sacco di elementi da mettere insieme, per cui un montaggio complicato deve essere stato. Sì, complicato perché ci sono tante informazioni, no? Da mettere insieme in un tempo così. Poi sai, in materia di repertorio, costa l'ira di Dio, quindi abbiamo dovuto anche fare dei tagli importanti, perché ci sono dei costi... Delle denunce, cioè. Non di poco conto, non so. Poi alcune, per esempio, dei personaggi come Madonna, no? Il problema è, magari che avevamo delle belle fotografie del suo rapporto, però poi Madonna, ma non ti risponde tra un anno, capito? Per darti i diritti. Quindi è un mondo veramente complicato, bisogna avere molti soldi per lavorarla dentro, e per questo un secolo sarebbe perfetto, perché con un investimento più forte si potrebbe veramente raccontare in maniera estesa Gianni Versace fino alla sua morte, perché anche la sua morte poi è legata a un'idea di abbandono quasi della moda, no? Cioè lui ha paura di morire, ha paura di questo, eccetera, abbandona la moda, vuol fare solo teatro, vuol fare solo libri, vuol fare solo... E poi però li trova invece la morte che lo aspetta, no? A Miami, boom! A 50 anni è morto, è morto molto giovane, eh? Ci sono altre domande? Buongiorno, Nicole Bianchi, Cinecittà News, volevo domandare a Mimmo Calopresti qual è stato il suo rapporto con il materiale d'archivio, cioè come l'ha approcciato, con quale criterio l'ha selezionato e qual è il valore aggiunto in questo film e un po' in generale questo tipo di contenuti, in qualche modo che narrazione, che memoria sociale lasciano e per cui sono fondamentali, grazie. Scusate, poi una seconda domanda, forse più ai produttori o a Calopresti, qual è, diciamo, il destino distributivo previsto, cioè se cinematografico, se televisivo, grazie. Il materiale di repertorio è importante, c'è una parte molto importante perché siamo riusciti ad avere un buonissimo rapporto che c'è nelle interviste, come si chiama il regista di Versace? Sergio Salerni, Sergio Salerni, che sono materiali inediti. Sergio Salerni girava in pellicola come regista, eccetera, con i migliori dettori della fotografia italiana, con i migliori montatori, faceva questi video, eccetera, quindi un materiale di repertorio preziosissimo che ancora lui ci ha, molto esteso ancora, perché a un certo punto Gianni Versace ha deciso di girare tutte le cose con lui, sono le scene, per esempio, dei ragazzi che si tuffano in acqua a bagnare, eccetera, girate in Calabria. Le modelle anche. Sono tutte girate in pellicola ed è un materiale molto, molto... Sì, quella è stata una grande trovata, sì. Perché trovare del materiale importante era difficile, molta televisione per esempio ha fatto, ma il livello è basso, non so come dire, Pippo Bado che lo presenta, tutto molto poco. Invece queste cose qui in cui lui ci lavora dentro con la sua testa quasi da regista, sono stati molto interessanti e importanti da recuperare. Invece, per quanto riguarda l'uscita, uscirà in sala credo i primi di febbraio, metà febbraio. Siamo in contatto con due o tre distributori molto importanti e stiamo valutando, comunque uscirà sicuramente febbraio dopo l'ondata natalizia. appena la prima possibile facciamo uscire. C'erano altre domande? Forse c'era la prima e... Buongiorno, Francesca Angeleri, Corriere della Sera. Volevo intanto chiederle di descrivere questa luce. Lei ha detto la luce sullo stretto è la più bella che c'è e volevo anche capire come illumina i suoi figli, no? Quelli che poi se ne vanno e fanno cose bellissime come ha fatto Versace, come ha fatto anche lei e se il suo sguardo, il suo sentire su Gianni Versace è diverso oggi rispetto a come era quando eravate entrambi giovani e lottavate per fare le vostre cose? Ovviamente, vabbè, la luce dello stretto dico sempre che è particolare, che è la luce più bella del mondo, infatti c'è tutta quella zona lì, quella zona appunto di Schill e Caridi eccetera che è sempre molto tormentata, adesso c'è il problema del ponte, c'è sempre un problema su quel posto lì ma perché è un posto di passaggio incredibile, cioè un posto di passaggio veramente che è stato importante appunto c'è nell'Odissea, c'è proprio come dire storicamente importante ed è una luce come dire che illumina il mondo veramente quello lì, c'è una luce come dire che apre sull'Italia e che arriva dall'Africa, quindi c'è una specie di posto di passaggio ed è la vera entrata secondo me dell'Italia è lo stretto, è lo stretto è la Sicilia, il passaggio da questa parte, la Calabria, poi la Calabria come dire che è una penisola, è messa lì in mezzo e riesce a essere come dire importante da un punto di vista così anche della montagna, c'è la Spromonte che è importantissima eccetera così, però tutto questo sta sopra il mare, no? Tutto, da qualunque parte vai vedi il mare dappertutto ed è bella questa cosa, sempre negli occhi il mare, i greci dicevano che il mare, guardare il mare rende belli quindi come dire io mi ci perdo un po' di tempo là avanti quando vado giù e Gianni Versace aveva questo rapporto con la bellezza molto importante e secondo me quest'idea sua di ricerca era tutta un'idea di ricerca di bellezza continua, continua, continua anche nei suoi vestiti, nei suoi colori, nelle sue scelte eccetera, c'è proprio quest'idea di bellezza che è fondamentale e che quella luce lì ha molto esaltato secondo me. Poi con le macchieste ancora? E la luce? Ah che è sgarmiato il mio sguardo ma in qualche maniera sì perché come dire dopo 25 anni che è morto Gianni Versace tutte le volte che ci penso e ci parlo intorno e ci lavoro intorno mi sembra che sia sempre presente cioè è diventata una vera icona no? Nel senso che come Marilyn Monroe come James Stinko cioè è sempre presente sono sempre personaggi presenti tra di noi è come se lasciano un'impronta così forte nel mondo che appena senti qualcosa senti il suo nome c'è qualcosa che ti porta a un grande mondo e quindi da che lo vedevo come uno come dire che riusciva a vincere no? Dalla paesello che se ne andava a Milano e da Milano a New York e da New York in giro per il mondo eccetera oggi come dire è veramente per me un'icona importante un'icona di qualcuno che appunto correndo dietro la bellezza ha cambiato il mondo ecco c'è una cosa che mi unisce con Versace è la mia speranza sempre di fare delle cose che cambino un pochetto la situazione ecco lui era uno così c'era ancora una domanda tre due prego vai chi è? volevo sapere sono sempre io se avete sorvolato apposta al di là del bellissimo rapporto che aveva con la mamma del rapporto che lui aveva con la città e quindi i rapporti affettivi non emergono per niente questo è un punto è un nodo forse anche importante per i giovani no? perché magari in Calabria non penso fosse facilissimo avere un orientamento essere come lui era difficile però lui da sempre come dire ha vissuto questo con grande apertura con grande tranquillità no? e ancora adesso a Reggio Calabria c'è una sezione gay molto forte ha lasciato un segno in quella cosa lì nel senso che comunque ha vissuto la sua vita sempre tranquillamente sempre alla luce del sole devo dire probabilmente si sentiva predestinato a qualcosa di importante perché era difficile nel suo periodo dichiararsi gay quando era ragazzo però probabilmente sapeva che era la sua strada quella e questa è importante abbiamo tempo per un'ultima domanda sono io? sì sì Federico Pontigia buongiorno volevo sapere se tutto è bene quel che finisce bene nel senso che questo film l'avremmo dovuto vedere a un altro festival sappiamo come è andato volevo sapere adesso visto che c'è stata questa messa a terra messa in un altro festival qual è stato l'iter Minerva vedo che si è sfilata volevo l'ultimo capitolo come si è concluso il tutto no non si è sfilata stiamo discutendo con Minerva se ci spiegate appunto per capire perché non sappiamo non c'è il non c'è nel senso che noi non sappiamo cosa è successo nel senso che fino a una settimana prima era tutto perfetto a un certo punto c'è stata questa ritirata no? sì proprio Garibaldina però noi andiamo avanti i diritti del film sono nostri però vogliamo avere a fianco a noi Minerva quindi siamo con gli avvocati cercando di trovare un accordo per continuare questo viaggio insieme quindi spero e sicuramente troveremo un accordo arriveremo io penso che arriveremo anche per il bene del film insomma no? mi sembra giusto anche perché loro hanno investito soldi come noi e quindi è giusto che ci siano e è un po' complicato però ci stiamo riuscendo adesso però siamo soli fra poco saremo in due grazie a tutti ci dobbiamo fermare qui un grandissimo in bocca al lupo se gli attori altri attori in sala che vuoi fare? no volevo salutare salutare allora abbiamo qui Crio Calopresti Antonio Petisano abbiamo il piccolo Gianni Azzolo piccolo Gianni Versaggio bravissimo piccolo Gianni alzate mettetevi qua così vi vedono va bene dai abbiamo finito? abbiamo finito grazie grazie a te grazie a voi grazie a tutti grazie a voi